Marco Stradiotto punta tutto su Alessandra Moretti. Certo, una dose di politica li corretti, il segretario veneziano del PD la usa quando si augura di poter vedere in corsa anche la Rubinato. Ma pare evidente come il partito si sia schierato quasi completamente con l'euro parlamentare Vicentina. Sulla carta sappiamo già che è molto probabile che sia Alessandra Moretti la candidata e quindi di conseguenza, al di là di ovviamente il passaggio delle primarie, ma l'impressione è questa. Le primarie, come proforma, ha meno di clamorose sorprese. E se sul fronte regionale il candidato forte c'è, lo stesso non si può dire per le comunali. In questo caso il PD si divide, c'è l'usato quasi sicuro che risponde al nome di Felice Casson e il nuovo che avanza rappresentato da Jacopo Molina. Qui le primarie conteranno veramente. Per Venezia si faranno le primarie a gennaio, stiamo lavorando sul programma in modo particolare il segretario comunale e gli organi comunali. La segreteria montepolitana fa d'arbitro rispetto a questo. A gennaio ci saranno le primarie con la scelta del candidato. Primarie aperte, è giusto? Sì, sì, sempre primarie aperte, come dal resto non sono quelle delle regionali. A gennaio ci saranno le primarie con la scelta del candidato.